Vi do una bellissima notizia, una notizia che riguarda soprattutto le donne e le madri della nostra regione. È stata appena approvata in Consiglio regionale una mia proposta che estende la possibilità di partorire senza soffrire del cosiddetto parto in dolore a tutti i punti nascita pubblici e accreditati della regione Campania. Oggi purtroppo non è così, si può partorire in maniera indolore in pochi punti nascita pubblici, altrimenti la mamma deve pagarsi la partoanalgesia di tasca propria. Quindi si crea una discriminazione assurda tra chi può permetterselo e chi no. Col paradosso che molte donne che hanno paura del dolore del parto, che è uno dei dolori più forti che si possano provare, magari chiede al proprio ginecologo di fare immotivatamente il taglio cesareo, esponendo se stessa e il bambino a dei rischi. Quindi mi auguro che da oggi nella nostra regione potrà migliorare la situazione e che quindi la partoanalgesia diventi un diritto per tutte le mamme che vogliano. Grazie 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 Grazie